cavolo 1,2,1,2,1,2 grazie sumo grande grande dj set bellissimo bellissimo ok ragazzi propongo jungle department il mio nuovo progetto della young energy drum and bass and jungle enjoy ok ciao 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 Oh, buona Pasqua, Django Department, Young Energy, a seguire noi di Backpack Unusual, alle 7, da circa un quarto d'ora. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Oh, yeah! Buona Pasqua! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!